Ciao a tutti carissimi follower, se una nuova scossa di terremoto colpisce poco fa l'Italia, prima di iniziare vi ricordo cari follower di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina per supportarci e portare nuovi contenuti sempre più esclusivi. Parliamo dunque ora del terremoto che ha colpito l'Italia questa mattina circa alle ore 5 e 26 dell'ora locale nella regione Emilia-Romagna dove circa a 12 km da Sassuolo e a 27 km da Modena una scossa situata a circa 21 km dalla superficie terrestre ha colpito quella zona. Il tremore è stato compreso tra i 2.5 e i 3 gradi della scala Richter, fortunatamente è stata una scossa piuttosto debole quindi è stata avvertita solo da alcune parti della popolazione che si sono subito allarmate, attualmente la scossa è documentata dal centro di sismografia avanzata.